Nella piazza 13 Martiri di Lovere, tra luce allestimenti e addobbi, si respira aria di festa. A scaldare l'atmosfera ravvivando gli animi e dando un tocco di magia, anche il concerto in piazza del coro Sonoris Note. Un augurio speciale di trascorrere in serenità e pace questo Natale, lasciando alle spalle i dispiaceri ed un invito ad essere felici con ciò che si ha. È un modo per tornare un po' alla normalità e metterci di nuovo un po' anche in gioco. Di dare anche un po' di leggerezza, di prendersi sul serio quando serve e a volte lasciarsi anche un pochettino andare. Il nostro spirito è quello di portare la musica all'esterno e quindi a chi ci ascolta, a chi apprezza questo tipo di performance e portare un po' di felicità anche alle persone in questo periodo particolarmente grigio. La nostra caratteristica è innanzitutto la voglia di cantare e di stare insieme. Parliamo di clima natalizio, di canzoni leggere che ci danno un po' di gioia, di speranza. Alcuni hanno uno sfondo religioso, altri di festa, altri di Natale, quindi di condivisione, di amicizia. Prossimo appuntamento con le voci del coro femminile, il 27 dicembre alle ore 20 e 30, nella Basilica di Santa Maria a Lovere, con il concerto di Natale. L'auspicio è quello che possa esserci il più vasto numero di gente possibile, proprio per riuscire a trovare uno spunto per condividere il Natale e far sì che ognuno possa trovare il proprio Natale nelle nostre canzoni. Ci sarà logicamente anche un piccolo momento di preghiera, essendo proprio all'interno della Chiesa. Siamo sempre un coro alla ricerca di nuove coriste, quindi se qualcuno volesse unirsi a noi, è un momento di svago e di riunione tra di noi.